plastic free che non diventi solo una moda anzi che non sia solo una moda ma che diventi proprio un comportamento da parte dei milanesi liberiamoci dal male la copertina di questo lunedì 11 marzo ecco perché si sta concretizzando questa svolta a milano che cosa dovete fare ne parliamo nella nostra cover focus con l'esempio che arriva dagli states firmato a pepac tanti numeri e insomma cinque valide alternative tra materiale comportamenti virtuosi tutto racchiuso nell'approfondimento firmato da alberto rizzardi ma non solo perché è cominciata la settimana del cervello ecco come proteggerlo già febbre da stramilano sono cominciate le iscrizioni per la maratona numero uno della nostra città e ancora una nuova porta genova grazie a piazza aperta infatti l'area di fronte alla stazione diventerà pedonale per la design week tutto su me tomorrow in distribuzione questo pomeriggio